Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Una notizia drammatica ha sconvolto tutti noi. Pochi minuti fa, è giunta la tragica notizia della morte di una giovane attrice. A comunicare questo tragico evento è stato il celebre attore hard-rock Sifredi. Stiamo parlando di Mia Split, una talentuosa artista che aveva appena 23 anni. Nonostante il suo futuro promettente, ha compiuto un gesto drammatico che ha lasciato tutti sconcertati. Al momento, le ragioni dietro la sua decisione rimangono sconosciute. Mia Split era nata il 21 settembre del 2000 ed era nota sia come attrice che come modella. Aveva precedentemente collaborato con Rocco Sifredi, che ha voluto rendere omaggio alla giovane donna con un post sui social. Nelle sue parole, Sifredi ha descritto Mia come una persona dotata di una sensibilità straordinaria, un'eleganza rara, e ha affermato che il mondo aveva bisogno di individui come lei. L'attore ha condiviso il suo dolore per la perdita di Mia Split e ha espresso il suo rispetto per la sua decisione, seppur dolorosa. Ha dichiarato che, nonostante tutto, Mia rimarrà per sempre nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata, inclusa la sua squadra di collaboratori.